allora buona domenica a tutti abbiamo una certezza abemus papam allora non è ufficiale pogba partendo da questo presupposto che so che sarà la domanda più ricorrente non è ufficiale pogba guardate attentamente il movimento della mia bocca non è l'ufficialità è soltanto quando la juventus annuncia ok tramite il sito di aver raggiunto l'accordo con il calciatore anzi esagero quando lo vedete arrivare a torino quando lo vedete fare visite mediche uscire e poi annunciare perché io ho visto addirittura non mi ricordo neanche più come si chiama patrick chic fare le visite mediche per poi non essere annunciato la juve per un problema al cuore quindi è ufficiale quando fa le visite mediche e poi le supera partendo da questo presupposto però la juventus sembra aver le idee chiare almeno chiave mercato sembra voler andare in questa direzione un giocatore fantasioso come di maria un calciatore fisico tecnico e qualitativo a centrocampo come Paul Pogba allora io ve lo dico da tempo da tanto e cioè mi sembra logico pensare che la juventus e Pogba possano quantomeno discutere addirittura di marzo esagera dice lunedì quindi domani già un incontro con Pogba per capire le effettive intenzioni è fatta mi dicevo prima no però abbiamo una novità ora la juventus ufficialmente perché tutte le testate giornalistiche anche differenti quindi gazzetta quindi romeo quindi sky tutti stanno dicendo che la juventus vuole riportare Pogba a torino e che quindi ha iniziato i dialoghi per riportare Pogba a torino secondo me in questo momento arriva il difficile vado contro corrente come i salmoni sono i salmoni contro corrente secondo me oggi arriva il difficile perché era logico pensare che Pogba e la juventus potessero chiacchierare quanti anni è che leggiamo Pogba a torino e poi Pogba a torino 20 anni dittura io ricordo che già all'epoca quando vendiamo Pogba a torino a torino alcuni iniziano a dire vedrete che poi lo riprendiamo a zero quindi parliamo di sei cinque anni fa ormai e sarebbe veramente clamoroso pensare di prendere due volte Pogba a zero della United dopo averglielo venduto la prima volta cento e passa milioni di euro veramente sarebbe qualcosa di assurdo ma secondo me ora arriva il difficile perché ieri avevo fatto un elenco no quale altre squadre potrebbe andare Pogba è l'unica che mi viene in mente logica il PSG quindi da una parte i soldi i petrol dollari e la Francia che offre il PSG dall'altro il bianconero il cuore il riprendere qualcosa che ha lasciato lì indietro della sua carriera Paul Pogba non è una scelta facile per quello che vi dico che arriva ora il difficile perché non dimentichiamoci mai che sì Pogba ha voluto bene la Juventus sì Pogba è stato un grandissimo della Juventus forse uno dei giocatori che mi ha fatto più emozionare in assoluto in questi anni va bene che ce ne sono stati tanti va bene forti però quando arrivi così giovane che non mi aspetto niente te ne vai così diventi campione del mondo non con la Juve purtroppo diventi una star una vera e propria icona a livello internazionale non puoi non innamorarti aggiungiamo il fatto che io in quei due anni i primi due anni di Pogba la Juve avevo un buon avvento allo stadio quindi me lo andavo a vedere ogni domenica il gol a Udinese il gol a Napoli tanti gol poi la numero 10 quindi insomma Pogba ragazzi da noi è diventato Pogba cioè c'è poco da girarci intorno e da noi ha fatto la miglior parte della sua carriera c'è da dire però che non siamo sicuri convinti e almeno io personalmente non sono sicuro e convinto che lui possa preferire il progetto Juventus la gloria di tornare a Juve l'idea di tornare a Juve piuttosto che una carriera al PSG tra tutte le stelle e tutti i campioni e uno stipendio sicuramente più alto perché vi dico questo probabilmente con altri giocatori non avrei fatto questo ragionamento però vi riporto la mente con la mente a quell'estate del 2017 quando noi poi andiamo ad acquistare Guain però io ricordo che ragionavamo tutti su questi binari e dicevamo per quale diavolo di motivo Pogba deve lasciare la Juve dopo una finale di Champions dopo che è diventato quello che è stato per tornare al Manchester dove l'ha mandato via dove non stanno facendo un progetto serio da anni e ha scelto Manchester e i soldi di Manchester quindi occhio a questa cosa qui anche perché la Juve arriva probabilmente a una decina di milioni di euro comprensivi di bonus forse esagerare arriviamo a 11 una roba del genere comprensivi di bonus dall'altra parte probabilmente ragazzi non so la butto lì sarà una ventina forse abbondante di milioni di euro fissi quindi capite bene che stiamo parlando di cifre considerevoli cifre che noi umani non possiamo nemmeno immaginare cioè io non ho la concezione di quanto sia grande una valigia contenente non so mezzo milione di euro figuriamoci se parliamo di ventina abbondante di milioni di euro e a Parisi li la danno tranquillamente non c'è problema credo che sia una corsa due banalmente penso che sia una corsa due però sappiamo che spesso usando la logica in questi contesti si riesce a ricavare qualcosa io ve lo dico da non lo so forse ottobre che ero molto convinto che si potesse ragionare sul Pogback e ora ci siamo perché l'importante è arrivarci e l'importante ora è tesserarlo ma come vi ripeto secondo me ora arriva il difficile e a ottobre settembre ora non mi ricordo quando ho fatto quel video dicevo attenzione però perché io conosco so com'è fatto questo mondo e so benissimo che Mino Raio la pace e l'anima sua che ci ha lasciato recentemente ragione in questi binari vuoi Pogba? gli vuoi offrire meno rispetto a quello che è il PSG? bene ti faccio un favore te lo porto ora non c'è più Mino certo indubbiamente ma Pogba rimane nella scuola a Raiola dove c'è Enzo Raiola dove c'è un po' di tutto le stesse persone con cui ho parlato eccesso è un fatto ovviamente per Mino e quindi il metro di giudizio il metodo di lavoro lo stampo rimane lo stesso quindi ti porto Pogba guadagna meno ok te lo porto la Juve però occhio che c'è l'élite che vorrebbe cambiare area o vorrei far cambiare casacca l'élite questa era la mia paura più grande ora oggi lo dico tranquillamente non vorrei essere condannato di poco tatto ma non è questo che voglio passarvi ma la scomparsa di Raiola secondo me un pochino aumenta le possibilità e le chance di delita la Juventus ancora questa è una mia concezione personale perché come vi dicevo prima non cambia niente l'azienda rimane la stessa l'impronta rimane la stessa le persone che lo componga rimangano la stessa però Mino aveva un forte ascendente era una personalità veramente di spicco rispetto a tutte le altre e poteva veramente convincerti magari anche a fare cose di cui non eri propriamente d'accordo mi viene in mente Nedved che l'anno che si ritira Mourinho lo vuole all'Inter perché Nedved voleva vincere la Champions e Mourinho gli dice vieni qua che vinci la Champions e loro effettivamente vinca la Champions Nedved dice no all'Inter no chi ha vissuto poi il 2006 andando in Serie B per la Juventus probabilmente era impossibile dire di sì all'Inter differenza di altri che invece sono scappati a gambe levate andando subito e immediatamente all'Inter prima della B e quindi Nedved magari è stata una delle mosche bianche che è riuscito a dire di no a Mino Raiola mi viene in mente un altro che dovrebbe essere Marek Hamsik mi sembra potesse essere un altro a scudere a Raiola e tante volte cercato da Milan Juventus e tanti altri top club De Ligt secondo me vuole rimanere a Juventus io sono abbastanza convinto che De Ligt voglia rimanere a Juventus la presenza di Raiola un po' mi spaventava quindi oggi vi dico sì la preoccupazione c'era di questo scambio di favori quindi ti porto Pogba ma ti prendo De Ligt oggi addirittura aggiungo il favore da parte della Juventus nei confronti della scuderia di Mino Raiola potrebbe essere il riscatore di Moise Khen e quindi non faccio io Juventus non faccio il diavolo a quattro per cercare di non riscattare Khen di non far fare un altro anno a Khen ma tu scudere a Raiola mi fai questo favore di convincere Pogba ad accettare di tornare a casa a uno stipendio ridotto rispetto a quello che andrebbe a percepire a Parigi quindi mi immagino questo scenario può essere poi che la Juventus voglia invece magari cercare anche di spingere per non riscattare Khen per andare su Aspadori ecco qua forse entriamo nell'eccessivo però secondo me Juventus un tentativo per Aspadori lo farà a maggior ragione dato che credo che Morata non verrà riscattato quindi attenzione che queste cose possono incastrarsi tutta la perfezione quindi credo il ritorno di Pogba sì lo dico senza giro di parole ma lo dico da tantissimo ma in questo momento sono delle idee che sia molto complicato perché dall'altra parte e altra parte intendo Parigi potrebbe arrivare una grande offerta quindi Di Maria da una parte Pogba dall'altra potrebbe essere i primi due tasselli della Juventus ripeto all'inizio del video ho detto idee chiare qualcuno potrebbe non essere a cor perché Di Maria è ultra trentenne Pogba arriverà ai trentattro a poco io capisco queste preoccupazioni ma dall'altra parte io ribadisco un concetto che ho fatto mio ormai da qualche mese se si va avanti con Massimiliano Allegri come sembra che si andrà avanti con Massimiliano Allegri ce l'ha confermato anche io di Fabiana della Valle non ha senso fare un progetto che non va nella direzione di Massimiliano Allegri perché sennò banalmente cambia l'allenatore se Massimiliano Allegri ritiene opportuno di avere certi giocatori allora li devi prendere poi io su Pogba ho un po' di paura sono sincero perché gli infortuni sono un tema è inutile girarci intorno sono un tema ho un po' di paura perché lo stipendio è molto elevato diventerebbe il giocatore più pagato da Juve al pari di Elite o forse anche più di Elite l'età è un tema quanti anni gli fai? 4, 5, 3? io oltre ai 3 sinceramente non andrei addirittura esagero io andrei sui 2 perché sì perché tutte queste componenti mi preoccupano e quindi ritrovarmi a avere un giocatore ultra trentenne multimilionario invendibile magari sempre rotto mi riporta la mente brutte esperienze quindi cercherei di andare un po' più basso per quanto riguarda gli anni di contratto dall'altra parte vi dico io non ho mai creduto Milinkovic Savic ma lo sapete bene vi ho sempre detto è molto più orabile Pogba ragazzi questa 0 euro è inutile girarci intorno credo che Pogba sia più forte di Milinkovic Savic credo che Pogba a mani basse potrebbe giocare in questa serie A in ciabatte dall'altra parte ribadisco la mia linea di pensiero avrei preferito Milinkovic Savic perché è un giocatore che non ha mai vinto è un giocatore ancora affamato Pogba torna da giocatore completo da giocatore finito fatto non ha margine di crescita non ha ambizione di vincere in Italia perché ci ha già vinto l'unica ambizione che potrebbe essere legata alla Champions ma io credo che il solo Pogba non sia sufficiente a vincere la Champions League partendo dalla base di quest'anno penso proprio di no non dimentichiamoci che l'ultimo anno di Pogba quando prende la 10 Paul fatica Paul fa un bel po' di fatica veramente tanta a un certo punto deve aggiungere i più 5 con la penna sulla maglia nonostante tutto chiude la stagione con credo una decina di gol e una decina di assist una gran fatica però attenzione che anche Pogba da solo non è sufficiente ed ecco che l'acquistare Pogba paradossalmente ti lascia dello spazio libero a livello di liquidità perché non paghi il cartellino paghi soltanto l'ingaggio e l'ingaggio lo paghi anno dopo anno a differenza di Savic dove dovresti tirare fuori dovresti costituire un esborso economico anche solo per acquistarlo quindi occhio che la Juventus possa focalizzare il grande colpo di mercato se davanti prendi di Maria se al centro campo prendi Pogba ed eventualmente ti diventa a fagioli poi non lo so vuoi puntare sulla squadra in prestito con obbligo biennale come aveva sempre fatto che il grande colpo non possa essere in difesa e che il grande colpo non possa essere anche lui francese ovviamente sto parlando di Badia Schil giocatore del Monaco giocatore molto giovane difensore centrale Mancino 1,94 chiacchieratissimo che la Juventus starebbe seguendo costa perché costa però immaginarmi una Juventus che va bene davanti mi prende Di Maria e poi mi prende Pogba però nello stesso tempo in difesa mi va a formare Badia Schil d'Elite davanti mi fa formare Chiesa Vlaovic Raspadori Ken a centrocampo oltre a Pogba che purtroppo ha la sua età Locatelli McKennie Zaccaria che non sono giovani di valore assoluto perché non sono giovanissimi aggiungiamo ecco il vero giovane potrebbe essere Fagioli o Rovella che potrebbero rientrare e a sinistra non lo so uno dei nomi più chiacchierati è Destiny Doge che è un classe 2002 inizieresti ad avere quel mix tra giocatori esperti Pogba Di Maria Quadrado Bonucci e i giocatori in fase in rampa di lancio De Litt Badieschil Vlaovic Raspadori più giocatori che iniziano ad essere nel formati quindi i vari Chiesa Locatelli Bonucci Scesni Danilo quei giocatori che vanno dai 25 ai 30 ecco per intenderci sarebbe un bel mix e quindi per concludere il video vi posto questa secondo voi questa può essere la formazione titolare della Juventus dell'anno prossimo ovviamente vi lascio Chiesa in panchina per via dell'infortunio di Maria ve l'ho messo sulla trequarte potete metterlo a largo a destra poi però ci sarebbe stato il problema di Raspadori qualcuno avrebbe detto non può giocare a largo a sinistra quindi vi dico uno che parte a destra uno che parte a sinistra immaginatevi come volete potrebbe essere questa la Juve titolare l'anno prossimo attenzione che le indicazioni vanno verso questo poi tra il dire e il fare c'è in mezzo il PSG che offre 20 milioni all'anno a Pogba